A Piacenza chi ha vinto le primarie del centro-sinistra? Numericamente non ci sono dubbi, ma politicamente le opinioni si fanno molto distanti. Vale più il 50% dei voti ottenuti da Pierluigi Bersani o il 40% di Matteo Renzi? Questione di punti di vista, come sempre in politica. Secondo l'ex sindaco Roberto Reggi, il successo vero è stato derrottamatore, di cui è il braccio destro. Beh direi di sì, infatti ho sorriso quando i supporter di Bersani dicevano grande vittoria di Bersani a Piacenza, nella sua Piacenza ha fatto meno della media nell'Emilia Romagna. L'obiettivo per domenica prossima è vincere non solo a Piacenza ma a livello nazionale? Sì, questa è una partita nuova, si parte da 0-0, noi abbiamo giocato fino adesso per lo spettacolo, adesso giochiamo per i risultati, non importa, dobbiamo arrivare a vincere anche il 95esimo su autogoli. Bersani replica ma non alimenta la polemica, ringraziando i piacentini che lo hanno sostenuto. Il dottoreggi ha detto che il PD è tutto con Pierluigi Bersani ma non deve esultare perché a Piacenza ha vinto Renzi. Ma insomma dai numeri non risulta, i numeri parlano chiaro, per me da Piacenza è venuta una grandissima soddisfazione, ovviamente, come si può vedere appunto dai numeri, anzi voglio anche ringraziare tutti quelli che sono impegnati per questo risultato. Non lo so che Conti abbia fatto Reggio, non voglio di fare polemiche con Reggio, è pur sempre stato il mio sindaco. Il segretario provinciale del PD Vittorio Silva toglie le vesti di sostenitore di Bersani per elogiare il risultato ottenuto da tutto il centro-sinistra piacentino. È un bel risultato e direi un risultato straordinario è quello della partecipazione, 18.300 votanti è un dato altissimo, alle ultime primarie quelle per eleggere Bersani avevano votato in 14.000 e in città, voglio ricordarlo, abbiamo raggiunto lo stesso dato delle primarie per la scelta del sindaco, oltre 7.300 votanti, quindi un risultato che non ci saremmo aspettati in queste dimensioni, un gran bel risultato. Perfetto.